La squadra di Puglia Popolare arriva a Trinitapoli per un incontro con la cittadinanza. La rappresentanza comunale che ha deciso di aderire al movimento guidato da Massimo Cassano si è confrontata con i cittadini, proprio per parlare di temi di strettissima attualità ma che riguardano anche la cittadina della BAT. Una politica per il bene dei cittadini, dicono i nuovi esponenti a Palazzo di Città, Roberto De Feo e Maria Grazia Iannella. Ciò che ci preme prevalentemente è affermare valori, principi fondamentali su cui si basa l'esistenza di ogni individuo, che è quello della salvaguardia, della dignità di ognuno di noi. La salvaguarda è quindi dei principi e dei valori che riguardano la crescita della figura femminile in ambito sociale. Aderiamo perché Trinitapoli ha bisogno della politica con la P maiuscola. Dopo un periodo veramente dove c'è stato anche tanto astensionismo, l'abbiamo visto nelle ultime elezioni, nelle grandi città, c'è bisogno di persone che porti nel territorio la nuova politica, quella fatta bene, quella per il bene comune. Abbiamo avuto la fortuna di scegliere una classe dirigente di alto profilo, perché noi qui siamo oggi con due consiglieri comunali che hanno un profilo altissimo, sia politico che professionale. Quindi credo che questa sia la partenza migliore, sia la dimostrazione migliore, perché si possa andare avanti bene.